buongiorno a tutti ragazzi scusate in ritardo ma non sono riuscito ma facciamo così a breve un video per commentare per dare la news l'inter news di ieri sera giusto l'ufficialità che vidal ha avuto la sua bella buona uscita 3 milioni e mezzo a un anno in anticipo dal suo contratto è stato mandato via dall'inter tutto felice tutto contento quanto pare se ne va al flamenco quindi vedete la rima che è arrivata alti soldi buttati continuano a buttare soldi è vero che certo punto di vista se si faceva avesse fatto quest'anno di contratto sarebbe avuta di molti più soldi almeno il doppio dello stipendio quindi di per sé ci sta da tre milioni e mezzo a sette milioni meglio spendere tre milioni e mezzo te ne vai e tanto per stargli a fare niente in panchina tutto l'anno la cosa che non capisco poi io boh io non ne capisco nulla eh però se lo vuole in flamenco perché non l'abbiamo venduto ma vabbè cioè sono domande che mi faccio io eh perché voglio dire cioè se va al flamenco allora cioè un conto se il contratto è scaduto dice vabbè se lo piglia medi peridici col tottenham ma scusa perché devo andare a buona uscita quando poi il flamenco è interessato a prenderlo cioè c'è qualcosa che mi sfugge ditemi voi qualcosa perché c'è qualcosa che mi sfugge perché scusa ma noi tre milioni e mezzo ma gli dava il flamenco gli dava tre milioni che ne so no buona uscita quello con l'altro con i soldi che si è acchiappato senza fare niente grazie Vidal grazie Vidal vedo sul sott'ufficio dell'India sì grazie di che cioè grazie del gol che ho fatto contro la Juve nel 2021 la stagione passata eh non quella passata quella prima e cos'altro sì un golletto di qua un golletto di là qualche partita qua e là ma io non mi ricordo partite massodonti tutte partite massodonti a parte che ha giocato poco e niente ovviamente uno di quelli che arriva preso in fortuna nell'immediato ma quello è un classico no di questi giocatori qua purtroppo non è stato tanto utile la nostra Inter lo voleva un altro di quelli che voleva tanto Conte e poi questa è la fine che ha fatto vabbè vedremo un po' quali sono gli sviluppi per il mercato Sanchez anche lui sembrava che dovesse andare di qua dovesse andare di là non vuole quanto pare quando si legge nelle testate giornalistiche sui social sui siti sembrerebbe che non voglia andare in altre parti vuole andare in una squadra forte cioè Sanchez se così se così è dove vuoi andare cioè nel senso ma anche tu flamenco fai compagnia a Vidal mi fate compagnia tanto ormai ma non ma a me spiace perché Sanchez è un buon giocatore a tecnica per carità però ormai c'è al momento ho avuto tanti di quegli infortuni che è un'incognita è un'incognita pure tenerlo e oppure anche 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 con sto qua gli diamo la buona uscita alla fine fine buon uscita di qua buon uscita di la fine spendi più soldi in buone uscita che altro vabbè comunque stiamo a vedere tanto ormai anche lui è appunto alla è alla porta ormai e vediamo un po' se sbloccando lui se arriverà sto benedetto di bala che mi sto triturando i maroni che sto di bala di bala arriva non arriva però la roma però interessa da quello interessa da quell'altra forse va lì forse va là mamma mia ragazzi mamma mia caccio il mercato neanche 15 giorni anzi si è iniziato il primo luglio ma come se fosse iniziato il primo giugno perché non parlano dall'altro comunque ragazzi vabbè staremo a vedere quindi Vidal grazie di quel poco più che di tutto grazie di quel poco buona fortuna al flamenco e vediamo un posto anche Sanchez lo seguirà per il resto ragazzi vediamo un po' cosa succederà chi deve arrivare più ormai cioè a parte di bala si c'è screener che potrebbe andar via sembrerebbe che sia stato trovato un mezzo accordo col psg per 65 milioni anche se mi sembra poco perché con i prezzi di oggi cioè tutti che sparano alto 80 90 100 milioni noi 65 milioni ci contentiamo Marotta ho voluto un po' trattare è vero che è un'opportunità che ti capita o adesso mai più però dai vendola anche a 75 non sarebbe male se proprio dobbiamo e poi sto bremer sembrerebbe che ci siano qualche accordino sembra che Marotta si sta vendendo con Cairo per farlo arrivare a 35 milioni 40 milioni non si capisce comunque staremo a vedere lì ancora in fase di sviluppo comunque l'ufficialità è che vi daranno andando via ci vediamo a mai più e noi invece nel nostro canale ci vedremo poi stasera con il commento post partita di Lugano Inter oggi la prima amichevole estiva e così vedremo un po' qualche sprazzo di partita beh ovvio che non giocheranno di tolare ma poi faranno una mezza partita giusto un po' di un po' di esperimenti che farà Inzaghi eccetera poi vabbè altre ufficialità che ci sono state Carboni in prestito Carboni dalla primavera in prestito non mi ricordo dove l'avevo letto ma vabbè prima mattina ancora ci doveva ragionato ma giornale poi ce ne parleremo poi nel complesso comunque un mercato molto movimentato questo dell'Inter ma anche delle altre squadre perché il mondo sta acquistando a destra e a manca ragazzi a presto e buona giornata buon proseguimento ci vediamo stasera al più tardi con il commento post partita di Lugano Inter prima amichevole estiva del ritiro estivo a presto ragazzi sempre Forza Inter ciao